Lei è un'apretora ad alto livello, vero? Beh... Ecco qua! Ecco qua! Là! Ecco qua! No, 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 quello, 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 quello! Quanto ho bevuto! Non riesco neanche ad alzarmi! No, 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 no! Ma perché? Ma perché vuole alzarsi? Vengo io qui! Stia comoda! Mi appare il greco e vengo subito! Ecco! Vengo io, cara! Ecco lo scotti! Ma cosa fai, comandatore impazzito? Lo sai chi sono i miei? Sì, sei la bella ciaccione dello scotti! La bella ciaccione dello scotti! Oh, bella, bella, bella! E con il desiderio...